Aveva appena prelevato quasi un chilo e mezzo d'oro al centro orafo di via Becchia Ferriera a Vicenza. Ieri mattino un imprenditore orfo vicentino di 57 anni, ma residente a San Giorgio delle Pertiche, stava quindi per partire a bordo della sua BMW, quando un bandito, che evidentemente lo stava pedinando a piedi lungo viale del lavoro, ha improvvisamente infranto il finestrino, ha aperto la portiera e ha sottratto la borsa che conteneva il prezioso metallo. All'orofo, che sorpreso dalla mossa fulminea, non ha potuto far altro che denunciare il fatto ai carabinieri di Campo San Piero. Sembra che ci fosse anche un complice da attendere il primo bandito, a bordo di un'auto bianca che è subito velocemente ripartita. La stima della re fortiva è di 40.000 euro.